sei veloce o lento ma è facile se fai attività di maratona vorrà dire che avrai le fibre rosse se fai attività di forza e potenza beh avrai le fibre di tipo bianco che bisogna c'è di fare il video ma per due motivi uno perché mi piace fare video forse l'altro però perché le cose non sono proprio esattamente così anche se la domanda che mi arriva sempre devo dire le mie fibre muscolari sono bianche rosse e anche qualcuno devo dire più avanzato dice ma siccome le mie fibre sono rosse è giusto che faccio questo tipo di allenamento oppure non posso fare velocità perché ho le fibre rosse ok vediamo se è così allora proprio l'argomento di oggi riguarda le fibre muscolari quanto sono importanti per il tuo allenamento quante sono importanti se poi il tuo obiettivo è creare massa quindi fare forza e ipertrofia o dall'altra parte magari fare attività di endurance di ultra endurance o via di mezzo di fare attività magari miste o arti marziali o attività che richiedono magari l'impegno in tanti muscoli e quindi devi essere sicuro o sicura che insomma l'allenamento vada nella giusta direzione è un video sicuramente molto ricco di contenuti spero che insomma il tuo atteggiamento non sia già quello di adeguato rilassamento ma se lo vuoi seguire meglio su youtube metti il telefonino in versione orizzontale è un livello rosso quello che vediamo qua ovvero l'analisi della fisiologia del muscolo scheletrico quando vedete il colore rosso è sempre perché il contenuto è un po più avanzato questo contenuto lo trovate anche nei libri formula it formula 24 un po in maxima per forma quelli che insomma scritto l'ultimo maxima per forma edito da mondadori però partiamo dalle fonti più diciamo comuni sempre dopo averti detto che mi chiamo già mario migliaccio mi occupo di bioenergetica della nutrizione e dal 2016 faccio divulgazione scientifica come dottore di ricerca allora le fonti che ho preferito scegliere oggi partiamo da da un libro che insomma è questo libretto qua sono circa due chili di roba si chiama physiology of sport and exercise di wilmore costi e altri autori l'edizione 2019 la settima in inglese perché non esiste la versione giornata in italiano allora da questo libro ho preso questo argomento cioè le tipologie di muscoli e quindi insomma senza andare troppo nel dettaglio i muscoli sono di tre tipi cioè il muscolo scheletrico che è un muscolo volontario siamo noi che vogliamo muovere con i muscoli poi abbiamo muscolo cardiaco che è involontario ed è diciamo coordinato dal nostro sistema autonomo simpatico e parassimpatico simpatico aumenta il il battito cardiaco e quello parassimpatico lo diminuisce ovviamente a seconda di altre condizioni fatto dei video su questo proprio per capire che le fibre sono diverse e poi i muscoli muscolatura liscia che quella degli organi interni e non solo anche questa controllata in maniera autonoma dal sistema nervoso di tipo autonomo soprattutto simpatico bene vediamo questa animazione quindi tutto quello che c'è dentro di noi poi alla fine a questi fasci per quanto riguarda il muscolo scheletrico e vediamo un po se fibre muscolari come sono fatte allora prendiamo questa immagine e facciamo diventare più grande così ci tiene compagnia considerate che poi alla fine il muscolo ha una funzione specifica e sembra banale però è quella di avvicinare le ossa tra di loro quindi mettiamo il caso di ragionare sul bicipite cosa deve fare il bicipite tra le varie cose con la più semplice la flessione della diurna quindi dell'avambraccio sul braccio quindi a quel punto il bicipite ha un corpo muscolare che è collegato all'osso ad esempio al radio dove c'è nella tuberosità del radio l'inserzione mentre in alto abbiamo il capo lungo e il capo breve in questo caso quindi il corpo muscolare insieme al tendine che la parte terminale si lega con un'inserzione al radio e consente lo spostamento allora se ne andiamo ad analizzare un passo alla volta vediamo quindi che c'è il bicipite abbiamo il tendine abbiamo la parte che riguarda avvolge il muscolo quindi l'epimisio e poi all'interno dell'epimisio l'epimisio è quello che vediamo al supermercato quando compriamo la carne non quella specie di guaina che racchiude il corpo muscolare dentro l'epimisio quindi abbiamo l'endomisio che è fatto da tanti piccoli fascicoli divisi dal perimisio e questi piccoli fascicoli accolgono raccolgono una serie di fibre muscolari e qui siamo alla cellula la fibra muscolare il mio cita è una cellula con noi siamo abituati magari a conoscere le cellule come che so l'uovo con un nucleo e il citosol e tutto tutto quello che c'è all'interno della membrana cellulare in questo caso è una cellula un po particolare più allungata a più nuclei e a mitocondri si e no dipende dal tipo di cellula ma vediamo subito dopo all'interno della cellula muscolare abbiamo poi le miofibrille all'interno delle miofibrille abbiamo la famosa actina miosina che serve per la contrazione quindi una cosa veramente molto complicata e quando noi vogliamo renderla ancora più complicata dobbiamo capire che succede in questo ciclo in letteratura scientifica individuato come ACR cycle eccitazione contrazione rilassamento abbiamo visto che il muscolo scheletrico è comandato dal nostro impulso dalla nostra volontà di fare un movimento quindi se noi vogliamo fare questo movimento chiaramente noi dobbiamo pensare di volerlo fare a quel punto il nostro sistema nervoso centrale manda un segnale di tipo elettrico dove lo manda lo manda all'interno del sistema nervoso centrale nella colonna vertebrale lì c'è uno smistamento quindi dipende ovviamente che tipo di movimento vogliamo noi vogliamo chiudere gli occhi muovere la bocca o la pelle oppure muovere il collo muovere le spalle muovere il braccio o muovere l'apparato locomotore quindi a quel punto lo smistamento avverrà in punti seguenti successivi della colonna vertebrale considerate che da quel momento quindi partirà un'assone che è un'altra cellula di tipo del sistema nervoso che può essere lunga addirittura l'elettrocotere scientifica fino a treppiedi quindi quasi un metro e a quel punto arriverà una scarica che è sempre una scarica di tipo elettrico questa scarica di tipo elettrico deve arrivare al muscolo in quel punto però non è più uno stimolo elettrico diventa uno stimolo chimico all'interno della sinapsi c'è proprio un neurotrasmettitore la cetilcolina che viene rilasciata da apposate vescicole e viene recepita da recettori da quel momento c'è tutta una cascata molto particolare che farà attivare una serie di meccanismi a catena ad esempio una depolarizzazione della membrana della cellula muscolare a livello poi del reticolo sarcoplasmatico con l'apertura di canali ionici sodio potassio questo consente anche ovviamente il passaggio all'interno del reticolo sarcoplasmatico del calcio il calcio a sua volta produrrà una serie di reazioni che finalmente porteranno alla contrazione muscolare grazie allo scivolamento di actina miosina dopodiché questa contrazione però si dovrà interrompere e dovrà portarsi a un rilassamento come avviene per una serie di motivi uno per riassorbimento del calcio ma anche perché abbiamo terminato l'energia ad esempio oppure perché c'è stata a livello per esempio cellulare un aumento di concentrazione di ioni h più ad esempio abbiamo fatto le attività troppo intense a quel punto alcuni enzimi sono stati come dire un po presi in in castagna dal nostro sistema energetico ad esempio fosse un frutto chinasi che consente una serie di reazioni chimiche all'interno del metabolismo energetico viene come dire bloccato perché il nostro muscolo è troppo pieno di ion h più quell'acido lattico famoso insomma alla fine questa contrazione si interrompe quindi c'è il ciclo e l'eccitazione del sistema nervoso poi la contrazione e rilassamento per un ciclo continuo a quel punto però ho detto prima all'inizio diceva le fibre quindi sono rosse o bianche e beh dipende devo dire che le review non sono tanto tanto antiche questa è quella che ritenuto più interessante perché andando a leggere quelle seguenti quasi tutti citavano questa è una rivista del 2001 la sip che ha questo titolo hybrid skeletal muscle fiber rare a common phenomenon dice ci sono le fibre di tipo ibrido ma è un fenomeno raro un fenomeno comune la ricercatrice gabriela stefenson nel 2001 aveva fatto questo ponendosi una serie di domande alcune di queste non sono state ancora poi realizzate in un modo completo questa è una biopsia muscolare quindi è stato preso un campione di muscolo è stato estratto come vedete ci sono le fibre rosse o slow twitch o di tipo 1 che sono quelle tendenzialmente deputate l'attività più aerobica abbiamo le fibre bianche o fast twitch o quelle veloci gli altri erano quelle lente teoricamente già qui c'è una differenza infatti abbiamo una serie di una gamma di di fibre abbiamo quelle due a o quelle due x le due a sono tendenzialmente quelle più pure con le più bianche quelle due x sono quelle più intermedie sono entrambe intermedie però sono più tendenti a essere simili a quelle di tipo 1 tra di loro oltre al colore chiaramente c'è l'utilità il tipo di attivazione muscolare ad esempio quell'impulso nervoso il sistema nervoso con le fibre bianche e quelle di tipo 1 l'impulso è più rapido dall'altra parte più veloce però è vero anche che quelle di tipo 1 cioè quelle diciamo lente hanno bisogno di una solida attivazione più bassa quindi si attivano con impulsi bassi mentre quelle più con le bianche quelle veloci fast twitch hanno bisogno di un'attivazione più forte e quindi hanno bisogno di qualcosa di importante ovvero se io prendo un peso molto consistente avrò bisogno di dare un impulso nervoso molto più forte per poterlo sollevare se invece devo sollevare una penna chiaramente non utilizzerò quelle fibre di tipo bianco quindi dire le fibre sono bianche o rosse è più facile nel mondo animale perché noi possiamo teoricamente pensare a una mucca una mucca che per ore 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 tutto il giorno è in piedi fa pochissimi movimenti quando li fa sono lentissimi ma tendenzialmente saranno fibre di tipo 1 se pensiamo invece una gallina la gallina la provate a prenderla e quelle alle fibre di tipo 2 dopodiché la prova ce l'avete al supermercato non c'è neanche tanto di vedere dove in che reparto siete la carne bianca pollo tacchino e la carne rossa e chiaramente in questo caso il manzo e noi dove siamo beh noi siamo qua siamo neve di mezzo anche su quest'altra review del 2019 se è stato un altro ulteriore approfondimento su experimental biology e vediamo che le fibre intermedie quelle ibride sono a seconda del muscolo a seconda della persona tra il 20 e il 40 per cento quindi non è proprio bianche e rosse noi abbiamo una serie di fibre dal 20 al 40 per cento che sono definite intermedie allora quel punto dice sì vabbè ok tanto ce le ho ma possono cambiare vediamolo allora intanto si possono cambiare per vari motivi possono cambiare per l'uso ovvero sto facendo sport per il disuso e quindi posso andare nello spazio anche più semplicemente non fare più attività fisica o magari aver avuto dei traumi essere stato costretto a rimanere a letto e quando faccio attività fisica la posso fare tendenzialmente verso l'attività di endurance o tendenzialmente verso l'attività di potenza di forza in quel caso c'è uno spostamento delle fibre 2a verso le 2x o delle 2x verso le 2a a seconda del tipo di attività che sto facendo e questo spostamento devo dire siccome è voluto mentre gli altri casi è preso nel disuso nell'invecchiamento non è voluto fa parte più degli aspetti fisiologici in questo caso sono io che posso chiamare in supporto altre fibre per farle commutare fare diventare più utili in quello che io voglio se questo argomento insomma ti è piaciuto condividere sui social adesso arriviamo al take home message ma ti volevo dire se puoi se vuoi fare delle domande vai sul canale youtube fai iscriviti e poi campanellina e lì puoi fare tutti i commenti e io ti rispondo bene qual è il take home message qual è il messaggio da portarci a casa quindi credi davvero di non poter cambiare credi davvero che se adesso che so ti sta allenando per la maratona però non riesci mai a fare i cambi di ritmo oppure non riesci mai a vincere nel finale oppure non riesci mai a partire forte e dici vabbè ormai io le fibre rosse e così oppure se fai delle attività magari di potenza oppure fai un triathlon sprint e dici è peccato io parto veloce però poi non riesco a resistere perché ho le fibre bianche no le cose non sono proprio così molto probabilmente tu semplicemente non ti stai allenando nelle tue aree di non miglioramento meglio ancora ci sono dei marginal gains dei miglioramenti marginali questa è un'altra cosa che ho scritto nel libro formula 24 ore un'area molto importante dove ci sono delle cose che io non faccio è molto più semplice io tendo sempre ad allenare le cose dove sono più bravo più brava ma quasi mai le zone dove ho delle debolezze in questo caso se parliamo di contrazione muscolare se abbiamo delle debolezze quelle debolezze noi le possiamo allenare e gran parte delle fibre intermedie le possiamo trasferire esattamente dove vogliamo se vuoi puoi farlo e se inizi da domani puoi iniziare a riuscirci anche per oggi grazie per tutti gli approfondimenti libri corsi o consulenze in varie parti d'Italia se magari vuoi essere seguito da me per varie consulenze di vario tipo tutte le informazioni le trovi su migliaccio.it e noi ci sentiamo al prossimo ciao formula hit il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formula hit.com grazie per la visione